Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. A rischio è l'intero ponte o solo la strada in superficie? E' a queste domande che si cercano risposte il giorno dopo la chiusura della provinciale 280 al chilometro 2 tra Monte Falcione e Serra di Pratola. Quello squarcio di vuoto di 40 centimetri tra lo scatolare del ponte e i muri di contenimento, come incide sulla stabilità? Lo smottamento franoso che ha causato il distacco del cemento, in che direzione viaggia? Dalle risposte a questa serie di domande dipenderanno i tempi di intervento e riapertura, sicuramente non brevi, poiché le perizie richiedono indagini geologiche, calcoli e assunzioni di responsabilità. Tecnici al lavoro, sindaci in prima linea, sicura Fausto Picone, primo cittadino di Candida, nel cui territorio ricade quell'area, ma anche nella veste di consigliere provinciale e il presidente Gambacorta attende le carte per la firma dell'ordinanza di chiusura ufficiale da parte dell'ente provincia. L'allarme è stato lanciato ieri dal comandante della stazione Carabinieri di Monte Falcione. Il declino improvviso dell'asfalto avrebbe potuto causare incidenti ad auto e moto che in quel punto sfrecciano spesso velocemente. La parola ora passa ai tecnici. Hanno inciso nel cedimento repentino dell'asfalto i tir che dopo la chiusura del viadotto di Parolise, da Piano Dardine e dall'Alta Erpinia, deviavano sull'asse Monte Falcione-Serra. Ritardi e disagi inevitabili sulle strade alternative da e per Monte Falcione. Manocalzati, Monte Miletto, Candida, i volumi di traffico sulle arterie alternative sono aumentati, ma quel che è peggio è che in stradine strette possono avventurarsi auto articolati a sei assi. Quella strada è come il pane, hanno dichiarato ai nostri microfoni i residenti, consapevoli che la sicurezza viene prima di tutto, timorosi però per la chiusura lunga. Fate presto, è la richiesta a rischio? È l'intero ponte o solo la strada in superficie? Se prima non si scioglierà il nodo, non ci saranno soluzioni e tempi certi.